Lo hanno trovato con 10 chili di marijuana e 30 grammi di cocaina, oltre a denaro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio nel quartiere di Catona, hanno notato un intenso odore di marijuana e un insolito movimento nei pressi di un'abitazione sul lungomare. Entrati nell'appartamento hanno trovato il 19enne, la sostanza stupefacente, una parte della quale suddivisa in dossi e l'altra riposta su delle rudimentali reti metalliche per l'essiccazione. Oltre alla cocaina sono stati trovati anche diversi bilancini e materiale per il confezionamento, assieme a somme di denaro contante ritenute provento dell'attività illecita. La droga, i soldi e tutto il materiale sono stati posti sotto sequestro.